Nome? Tommaso Cognome? Savio Che strumento suoni te? Batteria E com'è che ti sei avvicinato alla batteria e al mondo della musica? Allora, il mio zio è un batterista, suona anche in un gruppo e quindi di solito quando andavo da lui dopo ho iniziato un po' a provare a suonare la batteria comunque ho considerato che io ascolto la musica alla radio, in macchina e allora mi sono appassionato alla musica anche grazie al progetto che abbiamo fatto a scuola con la maestra Daniela, mi sembra e grazie a quello ho deciso di provare alla musicalmente a suonare la batteria E da grande invece qual è il tuo sogno nel cassetto? Diventare un batterista come tuo zio? Non lo so, non ci ho ancora pensato sinceramente Nome? Riccardo Cognome? Ave Colli Che strumento suoni te? Batteria E com'è che ti sei avvicinato alla batteria? A me piace tanto la musica e da piccolo mi piaceva tanto provare la batteria e così ho provato, quando avevo sette anni, a provare la batteria E da grande invece cosa ti piacerebbe fare? Continuare nel mondo della musica o prendere altre strade? Non lo so, sono ancora indeciso C'è un'altra cosa?